Noi siamo molto orgogliosi di questa manifestazione perché segna per la nostra città un evento quasi senza precedenti perché siamo 8, 9, 10 sigle riunite insieme con una sinergia esemplare, con pochissimi soldi ma grazie all'impegno di tutti siamo riusciti a superare questi problemi logistici. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti